Nessun evento di portata anche mondiale ha mai fermato gli agricoltori che producono cibo, né un tempo né oggi. È la storia di una crescita. Confagricoltura ha messo insieme imprenditori che avevano visioni, competenze e obiettivi per trasformare l'agricoltura italiana in un settore economico avanzato. Questa è la consapevolezza generata da 100 anni di storia. Sapere che non esiste un paese forte senza un'agricoltura forte. Sfide come quella che stiamo affrontando oggi ci fanno capire che dobbiamo ripartire proprio dall'agricoltura, mettendola al centro delle strategie di sviluppo nazionali e internazionali. In questi ultimi 100 anni abbiamo sempre lavorato per uno scopo comune, senza mai dimenticare che abbiamo la capacità di volare liberi e di andare lontano. In fondo la nostra è una storia appena iniziata. Grazie.